Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo ancora due partite per poter migliorare quello che abbiamo fatto, però insomma se si ripensa appunto a qualche mese fa, tanta roba. Io quando dico che, quando prima ho detto che secondo me abbiamo fatto qualcosa di straordinario, lo dico perché in tutti i momenti di difficoltà che il Teramo ha avuto in quest'anno, ha dimostrato comunque sempre di sapersi rialzare e di rialzarsi in maniera da veri uomini, perché comunque dopo la sconfitta di Fano abbiamo fatto una grande partita con il Monza, dopo il Verona abbiamo vinto con la Gianna, dopo Pordenone abbiamo ribaltato una partita sabato e comunque per come si era messa era veramente difficile, quindi a maggior ragione appunto dopo tutti questi avvenimenti credo che il lavoro fatto appunto sia straordinario e bisogna secondo me solo fare un applauso a questo gruppo perché voi me lo potete confermare, insomma nell'annate precedenti avete sofferto un po' di più rispetto a quest'anno, quindi sicuramente c'è una squadra anche che sulla carta potevano essere più forti di questa, perché comunque tanti giocatori che siamo qui siamo alla primavera esperienza da non titolari, però comunque da che stiamo giocando un po' di più ecco. Ma il Saveriano ci ha dato una grande mano, ci si sta a prendere in giro anche perché ha segnato gol pesanti e ci ha aiutato a portare punti a casa molto importanti, però io mi voglio soffermare anche su un'altra cosa, secondo me da gennaio in poi, grazie anche al mercato e alle persone che sono arrivate, ci siamo uniti ancora di più e abbiamo seguito totalmente al 100% le direttive che venivano dal mister e dallo staff tecnico e questo ci ha permesso anche di fare dei risultati che magari potevano essere aspettati, perché noi abbiamo dimostrato che se facciamo le cose come le prepariamo, come ci dicono di farle e come le dobbiamo fare, noi possiamo vincere con tutti, appena molliamo un attimo rischiamo di prendere le imbarcate con chiunque, quindi oltre al Saveriano io credo che anche ci sia tanto merito da parte del mister e dello staff. Il lavoro del mister credo sia sotto gli occhi di tutti, è stato un mister che comunque è stato anche abbastanza criticato e magari il carattere che ha, siamo simili, siamo persone veraci, persone impulsive, quindi a volte può anche rimanere antipatico, però il lavoro che ha fatto con il gruppo, con lo spogliatoio, con l'ambiente secondo me è stato un lavoro che ha portato i suoi risultati e bisogna solo fargli i complimenti. È chiaro che se dovesse vincere il Monza si aprirebbe lo scenario che l'undicesima vada a fare i play-off, se non dico una capolata, giusto? Quindi chiaramente se dovesse vincere il Monza avremmo un'opportunità in più, però, ripeto, abbiamo queste due partite per provare a fare i più punti possibili e poi vediamo quello che succede.